Ciao a tutti, sono Tibaldi Michele, ho 19 anni, sono uno studente in ingegneria per l'ambiente e territorio presso l'Università di Padova, sono candidato come consigliere alle prossime lezioni amministrative di Montegrotto Terme con la lista Nuova Montegrotto. Ho scelto di candidarmi per dare voce alle esigenze di tutti i giovani di Montegrotto Terme. Tutti dicono che il futuro è di noi giovani, ma la qualità del nostro futuro dipende soprattutto dall'ambiente che ci circonda e dalla riduzione degli sprechi. Se sarò eletto mi impegnerò al massimo al raggiungimento di questo obiettivo, ridurre gli sprechi nel comune di Montegrotto Terme. Affinché tutto ciò non resti un sogno, e mi rivolgo soprattutto a noi, giovani di Montegrotto Terme, il 5 giugno andiamo a votare. Votiamo Nuova Montegrotto, Tibaldi Michele.